Rita bentornata per il regolamento di quest'anno ogni puntata possiamo ospitare un concorrente dell'edizione precedente questa sera ha inaugurato la prima puntata della seconda edizione di Bulli e Pupiar Contest Rita bentornata grazie e mi sono trovata di nuovo bene come sempre sono divertita è giusto che vingono questi ragazzi l'importante è partecipare io mi diverto sempre e noi ci divertiamo con te ma non lo so se mi fate divertire abbastanza ma sempre ma stai scherzando ma come potremmo non divertirci con te non lo so comunque penso che sia andata bene chi vuol venire a trovarmi io sono tutti venerdì ballo su cubo salice terme verremo sicuramente a trovarti grazie per il momento di essere stata qui con noi questa sera alla prossima ciao ciao sei un aspirante poeta oppure ballerino oppure modella o rapper insomma pensi di avere un talento e vuoi portarlo sul palco scenico e davanti alle telecamere partecipa gratuitamente alla seconda edizione di Bulli e Pupiar Contest la ricerca dei talenti è appena cominciata quindi se vuoi puoi iscriverti e richiedere informazioni inviando un sms al numero 320 22 45 117 o commentando il video qui sotto io sono già sul palco e mi aspetto qua Bulli e Puppe Art Contest dal 19 ottobre tutti i giovedì a Libari Caffè di Voghera abbiamo finito sta pubblicità